Una santa antica e moderna allo stesso tempo. Santa Rita, moglie, madre e vedova prima di diventare monaca agostiniana, incarna con la propria storia il percorso di ogni persona in ogni tempo. Un esempio di virtù e di perdono non irraggiungibile e per questo modello di vita qui è stata dedicata una mostra nella chiesa di Santa Croce a Bari. Il miracolo che è portato alla canonizzazione di Santa Rita è avvenuto a Conversano e in questa chiesa già si è sviluppata una devozione a Santa Rita con un'associazione nata nel 1899 agli inizi della vita pastorale di questa comunità che è nata nel 1887, quindi 20 anni prima. Una mostra importante anche per chi collega in modo ideale Bari a Cascia, patria della Santa Umbra, rappresentata dal rettore della Basilica di Santa Rita, padre Mario De Santis. Santa Rita viene pregata e amata perché ognuno vede in lei la propria vita, le proprie vicissitudini come donna, come madre, come sposa, come fidanzata, come bambina, come nonna, come vedua, come consacrata. Il messaggio di vita è un messaggio che ogni persona oggi incarna nella sua vita.